Sfida che interessa i piani nobili della classifica, quella in programma a Montalfano e valevole per il terzo turno del girone vastese di terza categoria. E' ancora prematuro ovviamente dare un'etichetta alle squadre del raggruppamento e se il discorso è da rimandare a stagione inoltrata per il tornareccio ospite della truppa gialloverde, lo stesso non si può dire per i padroni di casa, che partono dichiaratamente con intenzioni altisonanti e che il risponso del campo ha fin qui rispettato. I ragazzi del presidente d'Alberto vogliono il lasciapassare dalla ricostituita società biancazzurra, ripartita con un nugolo di ragazzi locali e qualche vecchio marpione a fare da chioccia. E le prime avvisaglie sembrano confermare le previsioni della vigilia. Passano due minuti infatti e arriva il primo brivido per la porta, difesa da Matteo Fioriti, quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Faiè si avventa da distanza ravvicinata, ma la sua incornata manda la sfera ad alzarsi sopra i legni della porta avversaria. Al sesto Francesco Costantini cerca una pretenziosa palombella da distanza siderale, con risultati tutt'altro che esaltanti. Episodio che richiede il supporto della Moviola, quello che si registra al minuto 12, quando sullo spiovente da fermo di Fizzani, l'M e Faiè entrano in rotta di collisione e rimangono entrambi doloranti a terra all'interno dell'area tornarecciana. È il numero 4 Biancazzurro ad avere la peggio, visto che al tredicesimo è costretto ad abbandonare il proscenio sostituito da Totaro. Nuovo episodio dubbio in area tornarecciana e stavolta i locali invocano il penalty, in seguito al tocco con un braccio di Petrucci, che si trova sulla traiettoria della conclusione dal limite di Fizzani. Per il signor Saraceni di Vasto si può proseguire. La sfida si appiattisce sensibilmente e torna fragorosamente a regalare emozioni nella parte declinante del primo atto. Dopo l'intervento aereo di Faiè, che prova a sfruttare il tiro d'angolo di Fizzani, arriva la rete che sblocca il confronto, ma a passare in vantaggio sono i Biancazzurri ospiti, che vanno a bersaglio con Pasquale Yezzi, puntuale allo stacco sul secondo palo, che sfrutta un tiro dalla bandierina e va a castigare il malcapitato Raspa. I padroni di casa reagiscono immediatamente, dapprima con l'interessante traversone dal fondo di Francesco Costantini, per l'appostato di Laudo, che di testa prova a colpire, ma il pallone si spegne a fil di palo, e poi con l'intervento aereo di Boccongelli, che raccoglie la sfera su una rimessa laterale e indirizza sul palo più lontano, con Fioriti che riesce ad avere la meglio sull'appostato Faiè. Quest'ultimo va a proporsi poco dopo su pallina attiva dalla destra. La sfera rischia di far male, con il portiere ospite costretto ad alzare sopra la sua trasversale, ma sul conseguente tiro dalla bandierina Fizzani colpisce proprio dall'angolo con Fioriti fuori causa e il Montalfano che agguanta il meritato pareggio prima dell'intervallo. I ragazzi di Mister Marra riaprono le ostilità con una interessante opportunità per operare il sorpasso e il quinto infatti quando sul corner di Faiè si crea una mischia furibonda, culminata con lo stacco ravvicinato di Menna, sul quale c'è qualche tocco con un braccio della difesa ospite, non rilevato dal direttore di gara. Il sorpasso gialloverde è soltanto posticipato di un paio di minuti e viene certificato da Portellini che in piena area fa partire un destro che indirizza sul primo palo. Per Fioriti non c'è scampo e i padroni di casa possono festeggiare per il meritato vantaggio. Il tornareccio non ci sta e cerca di rimediare con il gran siluro dalla distanza di Alessandro Costantini che va a scheggiare la parte superiore della trasversale. Da questo momento il Montalfano non correrà più grandi rischi e al sedicesimo va a sfiorare il Triscon Portellini che interviene sulla pennellata da fermo di Faiè indirizzando di poco a lato. Matteo Fioriti è chiamato in causa poco dopo quando deve intervenire per intercettare il piazzato dal limite di Dilaudo. Sull'altro versante il seminoperoso Raspa si immola alla causa per respingere lo spiovente da fermo del neoentrato Ferrante. Ben altro grado di difficoltà l'intervento del suo omologo Biancazzurro che respinge la conclusione a botta sicura di Faiè e va poi a neutralizzare lo spiovente da fermo di Fizzani anche se con qualche difficoltà imprevista. La squadra di casa rimane in zona d'attacco anche se il diagonale in area di parlante sibila oltre il secondo palo ma non impegna Fioriti chiamato in causa dalla successiva conclusione dalla sinistra di Menna. In una delle sporadiche incursioni in area gialloverde il tornareccio riesce a depositare il pallone in fondo al sacco ma la zampata ravvicinata di Francesco Iezia viene in posizione irregolare e la segnatura non viene convalidata dal direttore di gara vicino all'azione. Rete regolare è quella che viene invece assegnata ai padroni di casa nelle fasi che precedono il triplice fischio e il 43esimo infatti quando la squadra ospite si fa trovare scoperta e Faiè ne approfitta per spadroneggiare sulla corsia di destra appoggiando poi a centro area dove l'indisturbato Portellini può spingere la sfera in fondo al sacco per la sua doppietta personale. Colameo Luigi, direttore sportivo del Montalfano, siete partiti male ma siete stati bravi a riprenderla? Sì, oggi sapevamo che era una partita dura, sapevamo la forza del tornareccio abbiamo visto la scorsa partita che ha vinto contro San Bono agli ultimi minuti la scorsa volta l'ha ribaltata il tornareccio, questa volta siamo usciti fuori noi e l'abbiamo ribaltata noi ottima prestazione dei ragazzi, faccio i complimenti al mister e ai ragazzi speriamo nelle prossime partite che vada sempre meglio. Siete i primi in classifica dopo queste prime giornate, insomma siete partiti bene e ne ve l'aspettavate? Diciamo che il potenziale c'è, ci aspettiamo sicuramente di fare meglio ci sono anche delle squadre che hanno fatto già riposo quindi diciamo che per il momento non ci sentiamo primi perché c'è Torre Bruna che ha fatto riposo quindi è una partita in meno a noi. Alex Di Laudo, una buona prestazione del Montalfano siete riusciti a riprendere una gara che sembrava compromessa? Sì, ci abbiamo creduto, siamo andati sotto, loro sapevamo che erano forti fisicamente però noi ci abbiamo creduto, non è nel nostro stile mollare infatti poi il risultato ci ha dato ragione. Ecco, prossima partita, continuare su questa lunghezza d'onda? Sì, sì, assolutamente sì anche perché l'obiettivo è lo stesso dell'anno scorso l'anno scorso ci è sfuggito per poco però quest'anno lottiamo solo per questo. Francesco Iezzi eravate partiti bene e poi vi siete un po' persi? Beh sì, diciamo che la partita si è scaldata un po' senza motivo con diciamo un'entrata un po' storta da parte del 10 loro che ha un po' acceso senza senso la partita. L'abbiamo tenuta bene il primo tempo, poi ci siamo abbassati un po' troppo loro sono saliti e beh, un po' questo, un po' i fattori arbitrariosi, un po' tutto è andato a finire così. A lungo andare è uscita fuori anche la qualità del Montalfano forse? Beh sì dai, diciamo che un po' più di qualità sì ma in fondo è stata una partita che lanciava meglio, cioè non c'è stato molto gioco in fin dei conti. Quindi sì, hanno giocato meglio ma nemmeno più di tanto ecco. Sarà una partita a quanto alla pari fino alla fine. Peccato perché voi speravate nell'aggancio con un risultato positivo qui quest'oggi. Beh sì, noi eravamo venuti qui per fare punti almeno, un pareggio, soprattutto la vittoria, non di perdere ma è andata così, ce la prendiamo e vedremo per la prossima. Gli obiettivi del tornareccio in questa stagione? Ah, gli obiettivi di fare il meglio possibile, puntare almeno ai play-off. Gli obiettivi del tornareccio in questa stagione?